Mai come in questo momento è importante il sostegno alle imprese sul fronte del credito. Ecco, Confesercenti, in questo senso che bilancio tira? Allora, per il 2013 l'ufficio di Confesercenti, l'ufficio credito, ha lavorato intorno agli 800 pratiche e è andata a buon fine intorno alle 330-350 pratiche per un totale di 50 milioni di erogato. All'interno di queste abbiamo circa 28 pratiche di start-up per un totale di 1.400.000 euro e start-up costituite o da giovani o da donne. Un bilancio quindi, come capite anche dai numeri, che praticamente una pratica su tre poi è andata a buon fine. Quanto è importante l'intervento proprio dei consorsi su questo fronte? Su questo fronte è importantissimo perché il sistema bancario con le nuove regole anche di Basilea si è reso necessario ed importante il lavoro dei consorsi fidi perché questo permette alla banca di accantonare la metà del proprio patrimonio per singola impresa. Quindi questo consente alle imprese di avere accesso al credito che invece molte volte non avrebbero. L'intervento di CESCOT proprio in una situazione così difficile in cui le aziende già prima non riuscivano ad investire sulla formazione, figuriamoci adesso, e poi comunque per alcuni settori non ci sono proprio gli strumenti per il cosiddetto apprendistato. Ecco, come si interviene allora? Sì, il lavoro adesso è stato organizzato in modo molto precario in generale. La gente fa un lavoro per tre mesi, sei mesi, ma un anno è un'eccezione, quindi non riesce ad avere un bagaglio di esperienza tale da poter poi spendere in una prestazione di lavoro. E quindi ecco che interviene questo servizio di formazione della persona che cerca lavoro che riesce ad acquisire le basi fondamentali per svolgere il lavoro al meglio, quindi per dare un contributo lavorativo importante per un'azienda che cerca una persona qualificata e per poter trovare un lavoro che gli dia una prospettiva. Allo stesso tempo le aziende hanno bisogno di avere una preparazione di base che va dalla sicurezza, dal modo di manipolare i prodotti, lo stoccaggio delle merci, cioè tutta una serie di cose per cui noi assistiamo per esempio aziende che nascono e muoiono presto perché non hanno una base di esperienza importante. Il nostro lavoro è quello di cercare di aiutare queste persone ad avere questo tipo di informazioni, questo tipo di esperienza che non hanno con l'esperienza acquisita nel loro lavoro, ma che gli diamo con un supporto di persone qualificate e a prezzi anche abbastanza concorrenziali perché è un altro problema che le aziende hanno.